Buongiorno a tutti, oggi lunedì della quindicesima settimana la liturgia ci mette davanti un brano dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 10 versetti 34 fino al capitolo 11 versetto 1. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada, sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa, chi ama padre e madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà, chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. La parola di Gesù oggi è tagliente perché diventa spada, diventa qualcosa che distingue, che taglia, che ferisce, cioè una presa di posizione radicale perché il nuovo che lui porta chiede un'adesione piena, profonda, che mette uno stacco netto rispetto a ciò che c'era prima. Il padre, la madre sono all'origine, sono ciò che sta dietro di noi alle nostre spalle, sono ciò che ci ha dato vita, sono loro che ci hanno regalato questa vita, ma ecco che il Signore Gesù offre un'altra vita, un'altra vita che ci sta davanti, che forse non conosciamo, di cui non abbiamo esperienza, ma che ci viene data. E come si fa allora? Perché questo stacco radicale? Perché è necessario accogliere questa novità? Difatti la seconda parte del Vangelo va proprio in questa direzione. C'è un'accoglienza del discepolo, dell'apostro, dell'annuncio di questi che porta a una trasformazione, che porta a essere dentro a una ricompensa diversa. Questa ricompensa che si ottiene con pochissimo, basta un bicchier d'acqua perché è un discepolo, cioè perché è uno che si è messo ad apprendere, a ricevere, ad accogliere dal Maestro questa vita nuova e allora la fa passare. Allora anch'io ne sono coinvolto se lo accolgo. Ecco dunque che questo passaggio radicale di cesura e di accoglienza sono alla base del cammino cristiano. Il momento in cui mi accorgo che la vita che ho ricevuto finora non è sufficiente, la lascio cadere per accogliere la vita nuova che il Signore Gesù vuole donarmi. Allora mettiamoci nella condizione di, se non altro, riporci questa domanda. La mia vita è stata sufficiente? Finora mi è bastato? Come ho vissuto finora? È piena questa vita? E da questa domanda puoi iniziare a chiedere al Signore, Signore dammi la tua vita, questa vita nuova. Allora questo innescherà un cambiamento radicale, profondo, di libertà dentro la nostra esistenza.